e non è che capisci no? sono le otto anni stanno là, dove sono la via? a mani che non si mette a mano, lo valla, lo valla, lo fermate così fai una cosa, non puoi fare quello che vuoi però che stanno inizio, signori siamo a casa, no? perché che non lo faccio fermare? da qua in voi, eh? ma devi mettere a confronto i bivini qua, ti portano anche a te, vieni questo è un solo privato qua allora tu ti devi mettere qua, guarda, questo è privato, guarda le transette da passare capisci un po' se le bambini è flottati allora, là è privato, se si fermano qua, un altro punto, ancora solo i bambini io? 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 grazie grazie grazie